lucia manca non sarebbe stata soffocata secondo i periti del tribunale i resti del corpo della bancaria di marcon non sono in grado di dimostrarlo contro i tagli in corteo a venezia tutte le forze di polizia il sistema dicono sta collassando ad un cacciatore di cinto cao maggiore costerà 4000 euro l'uccisione di uno storno una delle specie protette dall'unione europea ben ritrovati dalla redazione del tg di televenezia terremoto nel veneto è stata registrata stamattina le 7 e 24 una scossa di terremoto ad eraclea anche se era di lieve entità con magnitudo 2,3 per il momento sembra che la scossa registrata ad una profondità di 7 chilometri non sia stata avvertita e non sono stati segnalati danni e voltiamo pagina non si conosce la causa della morte di lucia manca le tesi del soffocamento è stata demolita dai tre periti nominati dal tribunale di venezia ora la posizione di renzo de cleva in carcere da mesi con l'accusa di aver ucciso la bancaria di marcon si alleggerisce vediamo non esiste la prova che lucia manca sia stata soffocata è la conclusione a cui sono giunti i tre periti nominati dal giudice veneziano per stabilire le cause della morte della bancaria di marcon scomparsa il 7 luglio scorso e i cui resti del cadavere sono stati trovati a cogollo del change il 6 ottobre dello stesso anno un'analisi che alleggerisce inevitabilmente la posizione di renzo de cleva il marito della donna in carcere da mesi e che continua a dichiararsi innocente gli investigatori ossia i carabinieri del comando provinciale di venezia sono invece convinti della sua colpevolezza e a provarlo secondo i militari è il volume ingente di forti indizi a suo carico in particolare un ticket autostradale sul quale c'è l'impronta di de cleva che registra la sua uscita dal casello all'altezza di cogollo la notte del 7 luglio e lui ha dichiarato che quella notte era a casa dopo aver incontrato la sua amante si tratta di una prova schiacciante per demolire il suo alibi ma non dimostra che lucia manca è stata uccisa il processo per l'accusa si presenta in salita il soffocamento secondo la prima perizia era deducibile dalla colorazione rosa dei denti invece i tre nuovi periti sostengono che le ombre rosa visibili sulla dentatura segnalano la presenza di una lesione della vertebra del collo lesione che potrebbe essere stata provocata nel momento in cui il corpo è stato sistemato nel bagagliaio dell'auto di de cleva luogo dove è stato trovato il dna della vittima ed ora guardate la foto che è già stata diffusa durante la trasmissione chi l'ha visto è di un ragazzo di mestre scomparso due settimane fa si chiama alessandro de rossi a 36 anni pesa 130 chili ed è alto un metro e 90 non dà notizie di sé da giorni e la madre che viveva con lui in via vallona a carpe nedo lo cerca disperatamente la sua foto sta facendo il giro delle baccheche e dei profili su facebook non avendo la patente il giovane utilizza i mezzi pubblici e usa talvolta la linea 2 e intanto stamane le forze dell'ordine polizia finanziari vigili del fuoco forestali e polizia penitenziaria hanno manifestato a venezia in corteo contro gli effetti dei tagli anche nel loro ambiente di lavoro erano circa 300 i manifestanti aderenti alle principali sigle sindacali e hanno sfilato da piazzale roma fino a palazzo balbi hanno aderito anche il cocer dell'arma dei carabinieri della finanza e dell'esercito italia la spesa corrente secondo l'allarme lanciato dai sindacati finirà per provocare il collasso delle forze di polizia una delegazione ha incontrato l'assessore regionale georgetti e dei tagli inflitti alla polizia e dunque la sicurezza se ne è parlato anche durante il raduno annuale del sindacato di polizia coisp che si è tenuto a maerne di martellago ha preso parte all'incontro fra gli altri il questore di milano sentiamo nomi altisonanti della polizia ieri presenti al raduno annuale del coisp il sindacato di polizia che ha legato il suo nome ad iniziative nazionali dedicate al valore della memoria delle vittime della criminalità famoso il memory day di mestre ieri sera festeggiato al ventesimo anniversario della fondazione a maerne di martellago con una pizza offerta a ben 750 persone la serata cui ha partecipato anche il questore di roma luigi savina e il capo della polizia stradale rizzi è stata l'occasione per parlare delle ultime vicende dolorose che hanno colpito la polizia abbiamo intervistato il capo storico del coisp fondatore del sindacato franco maccari che ha criticato duramente il capo della polizia manganelli per aver chiesto scusa per i poliziotti che si sono occupati del bambino di cittadella i fatti prima devono essere accertati dice maccari manganelli diciamo che è un grande capo della polizia ogni tanto sbanda oggi in questa situazione sicuramente ha sbandato ce l'abbiamo detto si chiede scusa solo quando sono accertate le responsabilità qui non c'erano non ci sono non erano state accertate quindi sono state anche in tempestiva non è tanto questo è tutto il clima che si è creato difficile di caccia alle streghe certo la situazione era sicuramente difficile per chiunque da vedere stiamo parlando però di una situazione che non è conosciuta un'attività operativa che normalmente impiega 10.000 bambini all'anno ci vede purtroppo coinvolte quindi la situazione è molto complicata chi si trova sbattuto in faccia questo per la prima volta capisco che può starci male per quello le istituzioni devono stare serie serene non incazzarsi i politici hanno fatto vomitare in questo momento non tutti chiaramente e qualcuno l'ha fatto poi ha fatto retromarsi chiedendo scusa ecco magari noi abbiamo invitato il capo a chiedere scusa anche a noi ma non l'ha fatto la vicenda si inserisce in un clima già piuttosto teso causato dai provvedimenti ispirati lo spending review che non hanno risparmiato nemmeno la polizia stiamo cercando di far capire che non stiamo protestando semplicemente per le nostre esigenze di tasca anzi abbiamo rinunciato noi stiamo protestando esclusivamente per le situazioni che si vedono coinvolti una mancanza di sicurezza che è all'estremo lo stiamo dicendo in tutte le maniere e lo stiamo lanciando come grido d'allarme perché diventa difficile gestire una situazione del genere per il futuro senza una programmazione oggi un taglio indiscriminato è capo e infine un pensiero all'anima del COISP legata alla memoria di poliziotti feriti uccisi e diffamati e alla solidarietà per le tante situazioni difficili in cui spesso un poliziotto si trova vivo la presenza di tante vittime o tanti familiari di vittime o tanti testimoni tristemente famosi e silenziosi di situazioni difficili di cacrenite situazioni che hanno visto anche come Padova per esempio sono presenti i colleghi non li indicheremo per la questione di rispetto ma sono presenti loro sono presenti quelli del processo Aldovrandi G8 abbiamo tutto noi qui ed ora ospitiamo l'appello di una donna disperata alle prese con una grave situazione familiare ed un bambino di 6 anni che chiede di continuare a vivere una vita normale è uno dei tanti casi che ci arrivano in redazione spesso privi di soluzione il caso della signora Loredana Baragnolo invece potrebbe trovare uno sbocco già la polizia si sta attivando per aiutarla così come la dirigente scolastica mentre i servizi sociali del comune e il centro donna sembrano in difficoltà speriamo che questo appello venga raccolto mi trovo in una stanza d'albergo col mio bambino da circa 10 giorni e la situazione è sostenibile non ho più soldi per pagarmi la stanza stanno finendo i soldi il mio compagno ha tentato due volte di suicidarsi una davanti agli occhi del mio bambino per un discorso di cert che non ha mai voluto curarsi nessuno ci sta aiutando special modo i servizi sociali le uniche persone che ci stanno aiutando sono la polizia e le maestre del mio bambino la preside che ci aiuta dandoci qualcosa da mangiare perché già la stanza d'albergo ci costa tanti soldi chiedo ai servizi sociali all'assessore ai servizi sociali che più volte ho cercato di contattare ai servizi sociali per i minori di aiutarci di aiutare anche quell'uomo che continua a stare in quella casa e che non si cura paghiamo un affitto cointestato grazie alla caritas ci vengono dati dei soldi mensilmente però io e il mio bambino non abbiamo più potuto starci perché non ci sentiamo al sicuro il mio compagno soffre da dipendenza da gioco e una volta era dipendente da alcol ed ora voltiamo pagina e parliamo dello scandalo dei rimborsi in regione si è mossa la procura presso la corte dei conti di venezia che ha inviato i carabinieri nel comune di meolo per indagare sui rimborsi chilometrici chiesti e ottenuti dal vice sindaco e consigliere provinciale della lega nord diego cagnato l'esponente del carroccio che per il momento si è sospeso dal partito in attesa che si chiarisca la sua posizione è sospettato di aver ricevuto indebitamente ben 13 mila euro per ripagare la benzina consumata per raggiungere venezia con la sua auto durante 121 viaggi compiuti dal 2009 in poi e altri 8 mila per il periodo 2011 2012 dal comune sempre i suoi spostamenti da casa cagnato spenderebbe cifre notevoli per i viaggi casa lavoro perché risiede a verzegnis un paesetto scusate della carnia ad accusarlo è proprio il segretario della lega nord di tolmezzo roberto pecol che abita nello stesso paesino di cagnato e che ha dichiarato ai cronisti che il consigliere vive e lavora a meolo e che a verzegnis scusate viene solamente nei fine settimana ed ora la pagina della sanità parte in novembre la campagna anti influenzale vediamo i dettagli nel servizio parte la campagna vaccini nelle asle a venezia a partire dal 5 novembre negli ambulatori dei medici di base inizierà la somministrazione del vaccino anti influenzale per gli ultra 65 anni e le categorie a rischio e dal 26 novembre si attiveranno gratuitamente anche le sedi dei distretti sociosanitari fino al 7 dicembre per i soggetti nati nel 1947 verrà offerta gratuitamente anche la vaccinazione antipneomococcica per contrastare meningiti e sepsi i vaccini quest'anno conterranno due nuovi ceppi di virus oltre a quella h1n1 dell'influenza suina e l'arrivo dell'epidemia è previsto come sempre in prossimità delle vacanze natalizie mentre il picco solitamente atteso tra la fine di gennaio e le prime due settimane di febbraio. Lo scorso anno nel Veneto l'influenza ha colpito 393 mila soggetti. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consiglia la vaccinazione per ridurre il rischio individuale di ospedalizzazione e malattia, per ridurre i costi sociali connessi con mortalità e morbosità, per ridurre l'assenteismo dal lavoro e inoltre consiglia la vaccinazione perché garantisce il mantenimento dei servizi del paese. Un cacciatore a cinto cao maggiore dovrà pagare 4.000 euro per aver ucciso uno storno, un volatile compreso fra le specie protette, quindi non cacciabile in base ai divieti della comunità europea. L'uomo stava cacciando a lodole con un amico ma è stato visto da due guardi a caccia. Oltre alla sanzione gli è stata ritirata l'arma e dovrà anche affrontare un processo penale e pagare la parcella dell'avvocato in tutto 4.000 euro. Ed ora, scusate, diamo uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia dove artigiani e commercianti stanno dando prova di vitalità e spirito di iniziativa. Sentiamo. L'artigianato del Brenta sbarca a Dallas, in Texas, per partecipare all'Italian American Fashion Week, sorta di fiera dedicata allo stile italiano. Cinque le aziende interessate, specializzate nel tessile, abbigliamento e calzatura di altissima qualità. Con loro anche una rappresentanza dell'Associazione Artigiani e Piccola Media Impresa, città della Riviera del Brenta. Una shopping card per rilanciare il commercio è l'iniziativa di una ventina di esercenti di San Donà che hanno deciso di applicare una serie di sconti ai possessori della Shopping Passion Card. La carta è gratuita e durerà per tutto il mese di novembre. Se l'esito sarà soddisfacente, la promozione verrà presto ripetuta. Noale, città di bar, locali e ristoranti, ma non di cinema e librerie, emerge da un'inchiesta promossa da confesercenti e realizzata dagli studenti dell'Enaip. Quasi 500 gli intervistati, l'80% di loro residente in città. Segno che bisognerà sviluppare maggiormente le capacità attrattive di Noale, ha commentato l'assessore al commercio Fabio Furlan. Ci spostiamo ora nella marca trevigiana, dove nonostante le proteste dei cittadini, la scura dei tagli è sempre più inesorabile. I tagli imposti dal governo tecnico di Mario Monti fanno chiudere il tribunale di Castelfranco, costato oltre 2 milioni di euro, e anche gli uffici del giudice di pace. Tutto sarà trasferito attreviso. Tempi e modalità non sono ancora decisi, ci vorranno comunque dei mesi per spostare gli archivi e allestire i nuovi uffici. Disagi in vista per i cittadini. Mano tesa alle aziende dell'Emilia Terremotata, il comune di Roncade ha deciso di prorogare il megabando da oltre 4 milioni di euro per la gestione ventennale dell'illuminazione pubblica, un modo concreto per venire incontro alle aziende emiliane interessate a partecipare alla gara d'appalto. L'Università della Terza Età di Montebelluna festeggia i suoi 25 anni di vita. L'UTEM montebellunese è stata una delle prime a nascere in Veneto. Dal 1988 ad oggi ha avuto una media di 400 iscritti l'anno, organizzando circa 2.500 ore di conferenze e spaziando dal disegno al canto. La cerimonia ufficiale è prevista per sabato 17 novembre. Andiamo infine in provincia di Padova, dove si intensifica la caccia ai furbetti, quelli cioè che fanno di tutto per non pagare il dovuto. Caccia agli evasori a Vigonza, dove il sindaco Nunzio Tacchetto ha firmato un protocollo con l'Agenzia delle Entrate per collaborare nello scovare eventuali anomalie. A questo scopo viene rivolto un appello ai cittadini, e cioè quello di segnalare casi di evasione. L'accordo prevede che il 100% di quanto recuperato venga incassato dal comune. Sempre più numerosi gli automobilisti beccati dai vigili con l'assicurazione scaduta. Accade a Conselve, dove a non pagare la polizza, non sono sbandati e balordi, ma gente comune, lavoratori e padri di famiglia. In aumento anche i proprietari di automobili con la revisione scaduta, in alcuni casi anche da parecchi anni. Ad Albignase, col servizio di assistenza psicologica nelle scuole, ha permesso di individuare decine di bambini bisognosi di aiuto, che sono stati indirizzati al servizio di neuropsichiatria infantile. Il progetto di consulenza psicopedagogica attivato dal comune esiste da due anni ed è presente in tutte le scuole materne del territorio. Ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Tempo stabile e soleggiato, una leggera ventilazione farà scendere le temperature e diminuire le nebbie. Mercoledì 24 ottobre, sereno o poco nuvoloso, foschie nelle ore più fredde, massime in abbassamento, mare da poco mosso a quasi calmo. Giovedì 25 ottobre, parzialmente soleggiato con annuvolamenti sparsi, livelli termici stazionari. Venerdì 26 ottobre, molto nuvoloso con possibili piogge pomeridiane, minime in rialzo, massime in discesa. Sabato 27 ottobre, precipitazioni temporalesche tutto il giorno, minime ancora in salita, massime stazionarie, comprese fra i 15 e 17 gradi. La marea di mercoledì 24 ottobre è normale, la massima alle 8 e 20 70 centimetri, la minima all'1 e 10, 10 centimetri. Salutiamo i 500 mila amici che ogni giorno seguono il nostro Tg, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6 e 30, 7 e 30 e per l'informazione serale 19, 20 e 30 e 23. Arrivederci dalla redazione del Tg di Televenezia. Grazie a tutti.